C'è poi pronto a qualche replica. Grazie Vice Sindaco, allora apriamo la discussione e c'è l'intervento del Consigliere Burrini. Presidente grazie, ringrazio innanzitutto i colleghi della Lega che hanno presentato questa interpellanza all'ennesima negli ultimi quattro anni di amministrazione Piastra. Ci siamo trovati tante volte a discutere di documenti simili insieme anche ad altri colleghi della minoranza. Ringrazio anche l'intervento del Vice Sindaco Brino. Parto innanzitutto da una battuta, ma prendetela come tale, anche per stemperare un po' i toni, ho visto che prima di questa discussione si sono un po' alzati. Lo dico senza nessun rimorso, ma anzi con grande convinzione, ho visto che dall'altra parte qualcuno è rientrato nel gruppo di appartenenza e altri ancora. Io vi confesso che anche dopo questa risposta rimarrò convintamente da questa parte, come in questi ultimi quattro anni precedenti. Non so se in questo frangente ci fossero dei dubbi in caso, spero di averli tolti. Dall'altra parte vi confesso che io, ripeto, non ho nulla contro il Vice Sindaco Brino, ma è anche, ripeto, secondo me, inutile ripeterlo in ogni assise. Perché penso che ogni qualvolta viene presentato un documento qualcuno dall'altra parte pensi che in qualche modo sia un attacco personale. Ma niente affatto. Io credo che ognuno di noi qui all'interno di questa assise faccia il bene della cittadinanza. Quindi se la cittadinanza segnala al collega Maugeri, la collega Titanio o al sottoscritto o ad altri colleghi che hanno deciso di presentare un'interpellanza del genere in questi anni, vuol dire che c'è una problematica sentita. Mi riferisco anche, in modo particolare, ai dati che sono stati citati. Giustamente, e dice il Sindaco, da diversi anni a questa parte ci ripete, che all'interno della nostra città abbiamo 8300 corpi illuminati, assolutamente. Al 95% di essi è stata applicata la sostituzione. Dall'altra parte, però, mi chiedo, e siccome sono stati citati dei numeri, sono in programma, non ho capito se da qui alla fine dell'anno, perché secondo me la comunicazione è stata incerta, 80 pali si stanno per sostituire. La mia domanda è, innanzitutto sono sempre in attesa di questo cronoprogramma, non solo per l'illuminazione pubblica, ma anche per il puntuale taglio del verde. Sono sempre in attesa, ripeto, innanzitutto per capire le tempistiche, secondo per capire dove verranno sostituiti questi pali, in quale zona, e per capire le criticità che ci sono in quella zona. Perché se in determinate aree della nostra città, al di là che ci siano atti vandalici, che sono i primi a dire che vanno condannati senza sé e senza ma, e nessuno, ripeto, sta qui a criticare, anzi, lodiamo il lavoro fatto dalle nostre forze dell'ordine all'interno del nostro territorio, dall'altra parte, però, Vice Sindaco mi permetta, secondo me ci sono delle cose che non vanno. Se fino a qualche tempo fa, quando discutevamo le interpellanze, si diceva che quando piove si ripresenta la stessa problematica in Via Fantina, in tante altre vie che sono state citate, e quando piove quella determinata via e quelle circostanti rimangono sempre al buio, e oggi mi sento dire che non solo andiamo ad aggiungere le intemperie, oggi andiamo ad aggiungere anche il grande caldo. Io ho scoperto oggi una grande cosa. Dall'altra parte, un'altra situazione che a me ha lasciato abbastanza perplesso, è il fatto che, innanzitutto capire il cronoprogramma, cioè se da qui alla fine dell'anno sì che sono stati stanziati 180 mila Euro per la sostituzione di questi pali, vorrei capire se questa è la sede per poterlo chiedere, in aggiunta alle domande fatte dal collega, per capire dove verranno sostituiti e per capire come mai, e già è una provocazione, ripeto, non prendetela male, perché poi non vorrei che vi offendiate, se già all'inizio del mandato e già con la giunta precedente, ricordo io ero come tanti altri colleghi fuori dal Consiglio Comunale, se con il Sindaco Puppo si presentavano le stesse problematiche e oggi, a distanza di 4 anni dall'insediamento del Sindaco Piastra, si ripresentano sempre le stesse. Possono cambiare i volti, possono cambiare i ruoli, gli assessorati, ma secondo me la tematica è sempre la stessa in questi 4 anni e in questi e negli altri 5 passati. Purtroppo sotto questo punto di vista non siete riusciti a risolvere una problematica che ormai è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. Con questo mi taccio. Grazie Presidente.